nel 1947 e da lì è nato l'interesse, prima con le automobiline che conservo ancora, gelosamente, e poi ne ho rifatto un'altra delle collezioni di automobili di Fremurano, soprattutto quella degli anni 60 e 70 perché quelli sono stati gli anni in cui mi sono appassionato tantissimo a Costa, alle vicende della Formula 1 del campionato Marche, perché c'era Marcello Salvatini che era una poluzese, un terramano, direttore di Autosprint e poi fondatore di un'altra rivista di automobilismo sportivo che si chiama Rocco, adesso il figlio è direttore di Autosprint che resta un po' la Bibbia della, diciamo così, dell'attualità sportiva in automobil. Quindi ecco, abbiamo cominciato poi a frequentare librerie specializzate, grazie a qualche amico abbiamo avuto la fortuna pure di seguire qualche millennia storica, insomma, da cosa nasce cose. La Formula 1 è sempre stata nei nostri pensieri, poi ho cominciato l'attività giornalistica e mi sono innamorato di tutta una serie di storie, ho lavorato per 12-13 anni alle pagine sportive del centro e la mia prima intervista è stata a Marco Pantani e da lì è cominciato un interesse per il ciclismo, poi ci sono tante storie che si intrecciano, per esempio il collaboratore di Enzo Ferrari, Ugo Simocci, aveva un fratello che faceva il corridore ciclista, che si chiama Alfredo e l'ironia della sorte quando smise di correre in bicicletta a livello di direttore sportivo dell'Atalo e fu il primo direttore sportivo di Vito Taccone. Quindi storie di ciclismo del mobilismo che si intrecciano, ce ne sono tantissime. Quindi rincorrendo queste storie piano piano abbiamo, come dire, approfondito le varie vicende che ci erano più vicine, insomma abbiamo scoperto che il popolare aveva tantissimi amici a Pescara, per esempio abbiamo scoperto che l'Hotel Palace era il centro della Movida, cioè che è cominciata, se vogliamo, la vita notturna è anche grazie alla corsa, insomma, un'attitudine che poi si è ripresa alla fine degli anni Sessanta quando è sorto il Festival delle Gerze. Quindi da questa serie di aneddoti è venuta fuori poi la voglia di metterli giù, addirittura ce ne sono alcuni che non sono entrati nel libro perché non erano ancora assorbiti, non li conoscevamo, non è escluso che c'è la volontà di farne un altro libro sulle vicende del dopoguerra, che in qualche misura dobbiamo recuperarle perché sono troppo belle, sono troppo più di distanza. Allora, un applauso Paolo Smollica, aspettiamo magari anche il libro nuovo, però nel frattempo leggiamoci questo. Allora, Francesco Santuccione, una passione in comune per le auto che vi ha portato alla stesura di questo volume, la domanda che ribadisco anche con te è questa, ma come avete fatto a avere tutte queste informazioni, dove le avete prese, dove le avete attinto? dai giornali, dalle testimonianze dirette degli ultimi sopravvissuti, dalla collaborazione con l'automobile club, io ero amico di lunga data con il vecchio direttore dell'automobile club tescana Mario Mutolo, con il quale addirittura avevo anche corso, la mia prima corsa, il volante d'aggetto, mangiare le 18 anni, avevo corso a Chieti e fra pareti si aveva anche detto, con le lanciarie sommessamenti. Un applauso, ti facciamo un applauso, dai. Mi dispiace che è il presidente dell'automobile, anche lui ha una lancia ardea, quattro marce, io ho corso una cinque marce, comunque va bene, a vecchi tempi, poi ho cominciato con il giocare a Franciavilla, facevamo ragazzini, il circuito di Sacco, io avevo una pallina rossa, non lo sapevo ma era il rosso dell'Alfa Romeo e poi era sarebbe diventato il rosso della Ferrari e siccome sono un Ferrari stanato, eccomi qua, Paolo mi guarda storto. Paolo, un destino nella pallina, c'era già il coloro nella pallina, mi sono il destino del nome, invece in questo caso... Si vendevano le palline con le immagini dei piloti, me l'avevo raccontato... Io i piloti non ci sono arrivati, io era rosso, bianco, argento... Tu sei più giovane della persona che mi ha detto, ecco perché tu non sei... E che ti ha detto, ma tu sarebbe... Vabbè, ci siamo stati... Volevo solo aggiungere una cosa, questa passione è andata di pari basso con la convinzione che poi questa città non era poi così marginale, nonostante fosse così piccola, anzi, avesse un posto molto importante almeno nella storia automobilistica, non solo per, diciamo così, per le mutazioni che ha avuto anche grazie alla corsa automobilistica ma anche perché addirittura una macchina prende il nome di Pescara, un modello dell'Alfa Romeo che vinse qui nel 34, la 24 ore e per fare quella 24 ore si costruì il lungomare da via Camurra a Silvano, quindi ha inciso fortemente anche nella nascita e nello sviluppo della città nella prima edizione la gente veniva portata col treno alle tribune in corso Vittorio e in piazzatura di Abruzzi perché non c'erano le strade quindi pensiamo un po' a che importanza ha avuto per la città tutto questo è arrivato anche il volume, ve lo faccio vedere, magari molti di voi l'avranno già visto questo è il circuito di Pescara, scritto a quattro mari da Francesco Santuccione e Paolo Smoglica devo dire la cosa che da una lettura veloce mi ha davvero colpita è la vastità anche di fotografie che avete reperito fuori dall'Italia, vero? sì, una parte delle foto le abbiamo reperite in Inghilterra si sa che l'Inghilterra è un po' la mecca dell'automobilismo perché c'è veramente un culto esagerato per l'automobile sportiva e tramite un giornalista inglese riuscimmo ad avere delle foto di un fotografo americano Robert Fellows che per due volte negli anni trenta venne a Pescara a seguire la corsa furono gli anni del dominio tedesco, insomma gli anni del fulgore, gli anni migliori della Coppa Cervo Federico Orletti dell'Associazione Prima Pescara voleva fare qualche domanda a voi autori allora, la lettura di questo libro come è stato detto impressiona veramente perché è un salto nel tempo veramente c'è una ricchezza, una mole di dettagli che io pure mi sono sempre chiesto come hanno fatto ad avere tutte queste informazioni questa sera ce l'hanno detto è una storia che in parallelo descrive l'evoluzione della tecnologia motoristica sul palcoscenico pescarese ma anche una grande attenzione alle storie degli uomini che hanno reso grande questa corsa sono tanti gli aneddoti, tanti i racconti da questo punto di vista volevo subito chiedere agli autori qual è uno dei tanti aneddoti che più li hanno colpiti il più, il più, come dire, scioccante è quello di cui è protagonista Bert Rosmeyer nel 1936 era un giorno di grande caduta i motori giravano al mino pronti al via e Bert Rosmeyer si presenta avanti al pubblico delle tribune in casco e slip immaginato, casco e slip arriva il solito commissario di pubblica sicurezza per cui lo invita gentilmente a indossare un minimo di abbigliamento che assicurasse la decenza Rosmeyer infuriato no, io sento caldo, corro così dovessero intervenire gli ambasciatori d'Italia presso quello di Germania quello di Germania ci fu uno scambio di ambasciatori di intermediazioni a livello diplomatico perché il commissario di pubblica sicurezza voleva mettere in guardia per offesa alla pubblica decenza non so quale reato e Bert Rosmeyer che poi andò a regolarmente avvicinare la corsa e questo è uno degli aneddoti più significativi di quello che ha significato la corsa per Pescara Pescara era un piccolo paese era un piccolo paese con la mentalità anche piuttosto abbarbicata a certi stilemi reditosi diciamo quindi quest'uomo in mutande perché era il slip signore e solo il caschetto di tela non solo nel commissario di pubblica sicurezza ma proprio nel pubblico ha creato sconcerto per cui stava diventando un caso diplomatico le mutande di Rosmeyer questo è uno degli aneddoti più vivaci grazie Paolo io volevo aggiungere solo che la famiglia Rosmeyer quell'anno si fece notare moltissimo perché la moglie li acquistava da quattro le notte perché non riusciva a dormire per il gran chiasso la musica che c'era sotto l'hotel pass appunto che Angelo Vetta che poi era presidente mi parla della strapaesana la ospitò nella sua villa ai Colli questo è l'incipit di un lavoro teatrale che abbiamo scritto insieme che vorremmo che William Zola realizzasse e speriamo che e proprio l'incipit di due camerieri dell'hotel pass che si dicono ma non hai sentito stanotte che gran casino ha fatto la moglie di Rosmeyer comincia così allora andiamo oddio qualche altra domanda dal 1924 la prima edizione pioneristica vedeva le macchine correre in mezzo ai sassi alla polvere c'è ancora qualche video dell'istituto luce che testimonia appunto lo spirito proprio veramente pioneristico poi è stata un'evoluzione è arrivato l'asfalto sono arrivate poi le automobili tedesche nel 1934 e nel 1935 addirittura si è scelto di affiancare come prologo alla Coppa Cerbo allora era ancora Coppa Cerbo addirittura una 24 ore la prima in Italia e dalla 24 ore del 1934 e del 1935 nasce poi l'alfa Romeo Pescara perché in entrambi i casi se l'ha giudicata la Scuderia Ferrari che guidava la divisione sportiva dell'alfa Romeo io adesso dal 24 al 39 secondo voi qual è stato l'anno più significativo? l'anno più significativo tecnicamente è senz'altro che nel 1934 quando per la prima volta Mercedes e Auto Union cioè le industrie di punta della Germania si sono incontrate vis-à-vis scontrate per la prima volta a Pescara fuori della Germania avevano avuto due altri episodi uno a Molleri in Francia un altro non ricordo su qual'altro circondo ma due ne avevano avuti di incontri e non erano arrivate nessuna delle due squadre al fine gara la prima gara fuori dai confini tedeschi è stata la Coppa Cervo del 1934 e in cui sia l'una che l'altra marca sono arrivate al termine della gara è sotto questo aspetto poi però c'è un'altra curiosità nel 1932 Alfred Neubauer Manfred von Brauchig Hans Stuck sono venuti a correre con vetture loro vetture Alfa Romero fornite da non c'ho chi sono venuti a correre a Pescara in Amascobel e altri due piloti invece sono venuti con le Mercedes SSK quelle enormi, grosse che hanno dei tubi di scarico mastodontici all'esterno e hanno testato le difficoltà del circuito pescadese alle quali si dovevano far fronte le vetture dell'industria tedesca Auto Union e Mercedes sono trascorsi due anni e ancora di più dirò che il famoso Nord quello classico non quello di Tilke è stato copiato parecchie particolarità del circuito di Pescara riportate proprio ex abrupto sul circuito tedesco comprese le seri di Bosso che facevano da notte un'altra trattenevano le vetture in uscita di strada queste sono i miei ricordi e i miei appunti tecnici io invece volevo solo aggiungere che per me l'anno fatidico è il 33 perché Nuvolari non corre con la l'Alfa Romeo con la quale aveva vinto l'anno prima entusiasmando il pubblico ma corre improvvisamente con una Maserati dopo aver corso fino a maggio con l'Alfa Romeo c'è tutta una storia dietro che adesso non vi dico che abbiamo scoperto dopo aver scritto il libro l'unica cosa che vi posso dire è che un ragazzo di Pescara Gioca Lanca scrisse a Nuvolari chiedendogli ma perché vieni a correre con la Maserati e non vieni più con l'Alfa Romeo vieni a casa che mamma è una Maldolana e vuole farti le tagliatelle come alla Maldolana insomma questa lettera è finita nel dimenticatorio non ha mai ricevuto risposto a questo bambino fino a quando negli anni 90 Cesare di Agostini che è il biografo possiamo dire ufficiale di Nuvolari in un suo libro tira fuori questa lettera e una delle curiosità che ci ha portato poi a scoprire i particolari di questa storia è che questo Giorgio Calanca l'abbiamo ritrovato Giorgio Calanca è un ingegnere adesso è un anziano signore che ha più o meno l'età di Cecco che vive a Milano era è stato ingegnere della mi ha dato dell'Anziano Signore della della Mondadori lei cosa ha da dire signor Carguso? ho detto zitto becca dell'Anziano Signore lasciate è un complimento è stato dicevo ingegnere è stato ingegnere della Mondadori ha costruito più o meno tutte le cartiere Mondadori fino agli anni 90 è stato un collaboratore di di Maier l'Archistar che ha fatto poi la sede della Mondadori quella con gli archi con le piscine eccetera eccetera chiamiamo anche una zona a intervenire un attimo raggiungici perché abbiamo sentito che c'è un progetto teatrale vorremmo sapere qualcosa di più se è possibile con l'impassione con l'impassione di campo con l'impassione di campo buonasera non era prevista questo comunque sì io intanto vedo una cosa è che qui presente l'assessore Presidente del Consiglio Comunale con l'impassione che insomma potrei essere il promotore di queste iniziative che insomma mercoledì mi risulta è partito da lui quindi io credo che sia un merito non da poco eh resuscitare questi interessi che si sta sorgendo in città in questi giorni lo sto vedendo veramente molto 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 bello che si era perso il tempo quindi eh eh veramente un ritorno di fiamma e anche un orgoglio direi perché essendo delle persone in città incontrato da gente che eh con orgoglio no rivendicava questa paternità di questa grande corsa che è è stata associata a altri grandi gran premi no a grandi a grandi nomi a grandi miti soprattutto ecco allora pensando a questi miti io credo che ehm il cinema ma anche il teatro oltre che la musica ad esempio eh possono aiutare molto a eh così far avvicinare innanzitutto quelli che eh non hanno né assistito come me a la a nessuna gara eh nemmeno nemmeno non c'erano televisioni vedete che i pubblicati televisivi eh che sono scattati in Italia alla fine degli anni cinque anni primi anni sessanta quindi addirittura insomma un bianco e nero non sono canale quindi era difficile vedere no delle dei programmi sportivi con con grandi circuiti grandi campemi quindi questa memoria storica può essere risuscitata a mio avviso molto molto bene con un lavoro che può sintetizzare ecco scegliendo ad esempio io ho già abbiamo già un canovaccio eh su questa bellissima storia su questa bellissima avventura che Francesco e Paolo hanno mi hanno dato io lo sto eh studiando ci sto lavorando e credo che si possa tirare fuori veramente un affresco bellissimo eh nella nostra città nel nostro Abruzzo che ora non ha nulla da invidiare altri grandi eh circuiti o altre città in giro per l'Europa e quindi è una memoria storica che eh che lo sia gridi vendetta però per essere per essere portata alla luce fatta conoscere nuove generazioni quindi io penso che si possano coinvolgere gli studenti alle scuole anche quelli più piccoli a volte che alle scuole superiore perché no anche all'università e la capacità di sintesi che può avere di analisi non soltanto storiche culturali ma anche psicologiche dei personaggi che vedremo di portare di portare in scena anche proprio interpretate da attori ovviamente questi questi signori che sono stati citati questi piloti che avevano una loro personalità qualche volta molto complessa molto introversa eh no molto particolare e quindi ha preso tutto un profilo umano molto molto interessante poi c'è uno spaccato a mio avviso della Pescara dell'epoca non parliamo appunto dei primi anni 20 fino alla seconda guerra mondiale questo grande albergo che ancora esiste fortunatamente purtroppo non c'è più i pomponi che era di fronte questa cosa stupenda vogliono fare lì vabbè altra storia e devo dire che appunto quel microcosmo a cui si riferiva Paolo prima cioè questa vita notturna c'erano delle orchestrine sotto sotto l'hotel questo questo bar gente elegante che era chiaramente insomma un una settimana incredibile e quindi credo che potremmo ricreare quel clima quel fascino di quell'epoca no? immaginate insomma con gli abiti con con una scenografia d'arte e quanto altro per raccontare questa storia credo che magari ecco i giovanissimi quelli che sono abituati a vedere le cose più che a studiarle non è un fatto più visivo quindi cinematografiche possono apprezzare molto e quindi imparare anche qualcosa e questa città non è vera che non ha rughe ha anche le sue rughe una sua storia incredibile che parte da Mostia Terra quindi insomma mi fermo qui perché avete capito insomma che è un progetto molto bello molto ambizioso speriamo di riuscire a farlo per il prossimo anno e fin da adesso siete invitati della SIGS ringrazio grazie grazie dei presenti attuali non c'erano io vorrei un tuo ricordo qualcosa proprio di personale dal tuo archivio diciamo del cuore un ricordo su questo circuito di Pescara che arrivi dal cuore è sintomatico è sintomatico qualcuno già la riportate la riportate io la prima corsa automobilistica cui ho assistito ne è stato il gran premio pescale del 1948 quando ha vinto Alberto Ascara avrei dovuto vedere anche l'edizione del 47 e mio padre medico che di automobilismo non ne capiva niente e neanche lo vedeva con molto con molta disponibilità per non dire di buon occhio la mia latente passione latente per modo di dire passione automobilistica mi aveva promesso che mi avrebbe mandato mi avrebbe prestato la sua automobile per portarmi al vivio al vivio di Villa Raspa perché io abitavo a Cepaganti dovevo venire da Cepaganti a Pescara e fermarmi al vivio di Villa Raspa dove c'era il blocco dei transiti se non che durante la notte mi scoppiò un febbrone da cavallo mio padre medico se ne accorse al bollo infatti tu non vai da nessuna parte beh alle 9 del mattino io non ero più febbre mia madre venne per controllarmi ecco di 50.000 lire io ero sul balcone della sala da pranzo che andava sul chiedi presi queste 50.000 lire immaginabile che rabbia presi queste le feci a pezze le feci a pezze accoriandoli e li buttai dalla finestra e fu tale tanta la delusione e la rabbia eh che 50.000 lire parlo del 47 50.000 lire erano soldi per un ragazzo e la mia ragione fu quella ecco così ti ho risposto credo è la risposta che ci piace è la verità è la verità leggendo spogliando il libro oltre alla telecronaca delle corse dal 24 al 39 ci sono c'è tanto altro materiale in particolare ne ha colpito eh il progetto del nuovo circuito Pescara quindi si stava già organizzando per un per un circuito automobilistico visto che eh non era più possibile correre su strada che cosa è successo vorrei chiedere agli autori che poi ha fatto un po' spegnere tutto sono due momenti differenti al 61 l'esplosione edilizia demografica della zona così che non si potesse più correre su un circuito cittadino anche sull'onda dell'opinione pubblica nazionale che condannava questo tipo di 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 circuiti sulla scorta di tragedie veramente enormi alle man mille mille cinquanta sette cinquanta sette invece nel 38 c'era un faraonico progetto che se fosse andato in porto probabilmente per l'ennesima volta avrebbe cambiato la faccia della città anche se a vederla ora entusiasmante credo più difficile fattura citt sitä il senso che il percorso veniva tagliato a tutta la parte via Berbobvio via Michelangelo il Есть ruolo e si riscendeva alle case per dove adesso ci sono le case per doveva sorgere un enorme tribuna in cemento al vado con i cronometristi sulla strada e il percorso deve proseguire dove ci sono adesso le case gescal poi per giù verso la vema che la motorizzazione che ricongiungersi con vecchio circuito e c'ero villa montani all'altezza della montagna poi la guerra naturalmente ha bloccato tutto il maggio che cosa sarebbe successo se avessero fatto delle tribune fisse in via del santuario probabilmente la geografia della città sarebbe stata sconvolta insomma non ci si poneva assolutamente il problema che le città potevano crescere potevano sorgere nuovi palazzi e quindi frenare un po questa questa voglia di velocità dentro la città circuiti stradale ce ne sono ancora per esempio in america ci si ci vorrò la popula indi però a monte carlo e qualche ibrido ormai grazie allora adesso invito paolo smogliga francesco santucione è l'editore della cassandra raggiungermi perché vi consegniamo una targa di ringraziamento e procediamo velocemente a consegnare anche le altre targhe forza se me le portate vediamo vieni paolo vieni francesco raggiungimi vieni vieni allora per il vostro impegno per aver partecipato a questa a questa impresa insomma di dare vita a un'iniziativa così importante dobbiamo ringraziare l'associazione prima pescara quello faremo nelle varie persone che rappresentano l'associazione invece a voi che siete stati gli autori del libro una targa ricordo magari apriamola così la facciamo vedere a francesco santucione paolo smogliga eccola qua non so se c'è qualche fotografo fa qualche fotografia eccoli qua sono loro grazie grazie di nuovo allora questo punto io però scendo così è un po' più facile per tutti eh ringraziamo intanto i patrocinanti della dell'iniziativa a cominciare da il comune di pescara nella persona ci raggiunga ci raggiunga presidente Antonio Blasioni al quale diamo una targa e vorrei a mio fianco anche a questo punto visto che ci siamo qualcuno che rappresenti la città di Montesilvano non so chi c'è la città di spoltore qualcuno che rappresenti il comune di Cappelle e la sovrintendenza archivistica da Bruzzo allora una targa ciascuno benvenuti comune di spoltore ecco qua la do io alla dottoressa Spinozzi un'altra targa e se c'è qualcuno anche del comune di Cappella di Cappelle riusciamo a dare anche una targa a loro a loro non c'è nessuno va bene allora io approfitto qui presidente velocemente visto che so che insomma è anche un po' in ritardo l'abbiamo fatto aspettare direi che è andata benissimo come come appuntamento anche perché insomma lo ribadisco c'è stato poco tempo per organizzarlo ci aspettiamo un impegno per il prossimo anno? Sì devo dire che è stato strepitoso non ci aspettavamo che potesse andare così è andato veramente molto molto bene siamo stati fortunati abbiamo trovato una giornata estiva che forse anche l'estate abbiamo trovato una giornata come questa per comandare la nostra estate l'impegno è quello di fare sempre meglio naturalmente questo è lo stile della nostra della nostra amministrazione quindi il prossimo anno speriamo di fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto grazie grazie a un istruttore dottoressa Spinozzi ora a questo punto c'è il presidente dell'automobile club pescara se mi raggiunge da dottor Sartorelli e così chiamo una taglia ricordo anche a lui eccola qua benvenuto allora l'automobile club ha avuto deve raggiungermi più qua perché il filo è corto l'automobile club ha avuto anche in questa occasione un ruolo importante naturalmente stessa domanda che ho fatto al presidente del consiglio comunale ci aspettiamo anche da voi per il prossimo anno di fare un bis e magari anche qualcosa di più ma intanto vorrei ridimensionare un po' l'automobile club non ha avuto un ruolo importante io sono grato al presidente blasioli a cui sono legato la vecchia amicizia ma soprattutto i ragazzi dell'associazione che veramente devono avere il clauso di tutta la città ma anche delle altre cittadine coinvolte in questa questa bella riedizione perché poi sono stati loro il motore io penso che hanno affrontato delle sfide difficilissime e forse quella di oggi per loro è stata la più difficile ve lo dice uno che organizza gare da tanti anni ed è la cosa più veramente più difficile mettere insieme le macchine e farle partire e seguire un orario e tutto quello che c'è quindi siete stati veramente bravissimi penso che questa cosa questa manifestazione dovrà essere ripetuta l'impegno del comune c'è l'impegno nostro c'è già da adesso spero che tutta la città voglia partecipare anche nelle prossime edizioni perché riportiamo il nome di Pescara nel mondo perché è stata nel mondo Pescara per questa gara e secondo me deve tornarci anche nei prossimi anni nel ricordo perché sono tante belle manifestazioni che ricordano la storia questa è una storia nata prima della città è una cosa particolarissima è molto bella quindi io penso che questa città la meriti questa manifestazione e faremo di tutto per riportarla ogni anno magari in agosto o luglio non in questo periodo grazie a tutti grazie grazie allora ho un elenco lunghissimo di sponsor da ringraziare quindi vado in velocità facciamo dei blocchi da 8 intanto ringraziamo e si possono avvicinare al mio fianco gli sponsor a cominciare dalla BCC di Cappelli sul Tavo Mario Efececco, Faieta Moto, Confartigianato, Barbuscia, Emanue Ricci, Silvi Gomez, Center Batoro, Luigi D'Amico e Valle Martello premiamoli insieme vediamo chi c'è e così insomma andiamo un po' in velocità allora a cominciare dalla BCC con il suo direttore presidente che ci ha ospitato a Cappelli sul Tavo tra l'altro per chi non ci fosse stato voglio veramente sottolineare c'è stata un'accoglienza eccezionale io sono rimasta veramente stupita non immaginavo veramente potesse esserci una risposta di questo genere è contento immagino sì perché buonasera a tutti da parte della banca di credito cooperativo di Cappelli sul Tavo in realtà questa iniziativa è molto sentita a Cappelli perché il circuito lambiva proprio alcune strade del comune di Cappelli e molti anziani raccontano ancora le loro esperienze lo fanno sempre con molto trasporto e molto calore per cui la cultura della tradizione di aver tramandato questa conoscenza è anche presente a questi più giovani oggi è stato veramente c'è stato un pienone assolutamente inimmaginabile e questo ci ha molto fatto piacere come organizzatore e come sposo per cui ringrazio a coloro che ci hanno coinvolti in particolare Elio Rosini che è qui presente che è anche socio storico della banca e suo sostenitore a prescindere da quello che poi la banca riesce a fare però lui ce la mette sempre tutta e un'iniziativa del genere lo ringrazio veramente per averci coinvolti grazie a voi e a tutti gli organizzatori grazie, grazie anche agli altri sponsor che ci hanno raggiunto c'è una tag da dare a questo signore? no, siete insieme con Santigenato, De Cecco e gli altri ritireranno magari in futuro andiamo avanti, grazie premiamo anche, insomma diamo una tag da ricordo a Il Calanco, Le Terrazze, l'Hotel Esplanade, Berardo, Arlini, Gioielli, Capecchi allora qui chi abbiamo? Vediamo un po' Società agricola Il Calanco ah ecco che ha fornito anche la pasta vi siamo grati a nome di tutti per noi o per gli altri gli altri sponsor non ci sono benissimo, allora diamo soltanto la tag a lei e la salutiamo e la ringraziamo procediamo dunque Saga Security se c'è qualcuno in rappresentanza il centro se c'è qualcuno il bar Arlecchino, la gelateria 490, il tappeziere, lo street e officine Europa credo che non ci siano tutti quanti però andiamo ecco là per il centro c'è il collega Adriano che ritira questa tag vediamo se c'è qualcun altro oltre a lui officine Europa per leggere tu magari che la tua calligrafia io non la capisco Sì allora ringraziamo chi ha fatto le tag quindi potremmo parto adesso un esempio adesso consegniamo la tag a chi ci ha fatto le tag è bellissima, sembra quasi una carambata fantastica prego grazie ecco poi chi altro manca allora poi abbiamo Cruzart c'è il grafico non so se c'è Andrea no non c'è l'ho del grafico che c'è curato best academy Guerrino Dagnese deve essere presente non c'è lì la faremo recapitare Turning and Beauty Oriente S.P.A. Casa Lab c'è Rapposelli che può accomodarsi e per quanto riguarda Vittoria Assicurazione c'è il titolare Piero Sideri Piero Sideri grazie a voi grazie per vederci grazie Adriano sì Adriano che ci segue da una settimana ha pubblicato anche degli attivi fatti molto bene su questo evento e continuerà a pubblicarvelo senza altro io spendo giusto due parole per ringraziare chi mi ha voluto coinvolgere Costantino Spererri in testa e spero di vedervi anche l'anno prossimo grazie a tutti e un applauso a tutta l'organizzazione grazie grazie anche a Vittoria Assicurazioni siamo in Pura chi manca? abbiamo il team Solare che è impegnato sicuramente a sistemare le auto abbiamo l'autodromo di Ortona abbiamo Di Orio e le socio dal signor Dragani e poi volevo un ringraziamento particolare per i motociclisti di Odd Motors che non so se c'è qualcuno presente e i vigili urbani di Pescara poi magari glielo hai capito perché oggi sono stati fantastici allora lo consegniamo e però aspetta però stai qua perché c'è una targa anche per voi dell'Associazione Prima Pescara e per il club Odd Motors allora queste le vorrei consegnare io se non vi spiace forza su queste allora per Odd Motors la dà lei un grande affetto per Odd Motors da parte nostra grazie ecco un bel applauso vieni qua Costantino adesso chiudiamo invece con grande apprezzamento da parte mia per come siete riusciti a organizzare velocemente in breve tempo e devo dire con grande entusiasmo questo appuntamento in cui forse non tutti erano convinti e invece devo dire è andata alla grande la risposta del pubblico è stata eccezionale e questo deve essere il più importante riconoscimento per voi per l'Associazione Prima Pescara che ha lavorato tantissimo un applauso per voi bravi direi che siamo veramente in giustura non c'è altro da dire vi ringrazio per essere stati con noi e allora appuntamento alla prossima edizione arrivederci